Come fai a sapere che era droga e non, per esempio, una torta? Non penso che nascondevano una torta dentro lo stereo. C'è tutta l'ingenuità, ma anche l'intelligenza di un bambino dentro questo dialogo. Quello tra il sostituto procuratore della DDA di Reggio, Giulia Pantano, e il più giovane pentito nella storia delle mafie, il figlio undicenne di Gregorio Malvaso, accusato di essere il capo della Cosca di San Ferdinando, e a Nina Lobianco, che aveva già iniziato a collaborare con la giustizia subito dopo l'arresto del marito nell'ottobre 2014 nell'ambito dell'operazione Eclissi. Il ragazzo ha iniziato a descrivere i traffici della famiglia dimostrando di sapere che si trattava di affari illeciti. Ha raccontato al magistrato dell'organigramma della Cosca, in cui suo padre avrebbe rivestito un ruolo di comando. Ricorda la propria infanzia, in cui è stato abituato a maneggiare pistole, quelle stesse pistole che davanti ai suoi occhi sono state sequestrate al padre assieme ai Kalashnikov e a munizioni di ogni tipo proprio un anno fa dai carabinieri. Ricorda la droga nel garage e nel nascondiglio dietro lo stereo dell'auto, ricorda i discorsi di indrangheta in famiglia e con gli amici più grandi, ha persino consegnato la scheda del suo telefonino usata in passato dal padre. E parla il figlio di Gregorio Malvaso, il bambino che può far tremare la piana di Gioia Tauro.